buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di brian may della sua red special andando a vedere le differenze che ci sono tra i manici di una bmg e di una burns rispetto a quello di una copia molto fedele all'originale ovvero la mia carpinteri extreme modern se volete vedere che fine hanno fatto le mie chitarre nell'incidente che avete appena intravisto ma soprattutto se il mio gatto è ancora vivo rimanete fino alla fine di questo video andiamo eccomi con questo video che in molti mi avete richiesto per mettere in risalto le differenze tra i manici della bmg e burns repliche commerciali della red special rispetto ad una replica identica nelle specifiche alla red special originale brian costruì la chitarra con suo padre e nello specifico il manico fu costruito con l'intento di avvicinarsi quanto più possibile a quello della egmond acustica che brian ricevette il regalo dei suoi genitori quando era bambino stando a quanto lo stesso brian dichiara sul suo libro sulla red special egli compie un errore nei calcoli che in parte riuscì a rimediare in fase di costruzione non tenete conto dello spessore della tastiera che avrebbe contribuito ad aumentare lo spessore del manico già di dimensioni piuttosto importanti facendo una panoramica delle tre chitarre da differenti prospettive guardandole da dietro salta subito agli occhi il fatto che il manico della carpinteri sia avvitato al corpo così come nell'originale di brian mentre nella bmg e nella burns il manico è incollato lo shape della paletta di bmg e burns è uguale tra loro mentre è differente rispetto all'originale e risalta il fatto di non essere presente la classica bombatura al termine del manico dettaglio che rende molto particolare la chitarra di brian un'altra differenza che possiamo notare sono gli inserti laterali che nella bmg e nella burn sono formati solo da punti mentre nella copia fedele all'originale di brian sono formati da punti e linee dal punto di vista della suonabilità ovviamente un manico come l'originale può spaventare un po' viste le dimensioni soprattutto se siete abituati a manici comodi come per esempio fender o i bannets o se siete possessori di una bmg o una burns tuttavia prendendo confidenza con lo strumento non ho dubbi sul fatto che riuscirete a suonare una chitarra con un manico anche di queste dimensioni spero che il video vi sia piaciuto mettete un like commentate così potremo interagire iscrivetevi al mio canale così potrete rimanere aggiornati sui miei prossimi video ciao alla prossima ciao ciao hai fame ciao